in questo periodo difficile a causa del del covid come hai utilizzato il numero verde 800 guarda ti è stato utile lo hai utilizzato se sì in che modo ecco spiegaci mi è stato utilissimo come sempre ovviamente in un periodo del genere dove appunto c'è stato il l'esigenza del distanziamento e anche il rallentamento dell'attività lavorativa c'è stato un lockdown che ci ha costretti in casa fortunatamente avendo la mia attività prevalente in formazione avendo la mia attività prevalente in informazione e soprattutto in consulenza ho potuto gestire comodamente da casa il tutto il tutto il lavoro in pratica mi sono trovato dall'oggi al domani in smart world working e non ho perso neanche una telefonata neanche un contatto proprio grazie al numero verde se non avessi avuto il numero verde guarda avrei dovuto lavorare probabilmente con i trasferimenti di chiamata e che praticamente ti danno innanzitutto ti fanno perdere tutto appunto quel vantaggio che ti dà la campagna comunicativa del numero verde se sei arrivato fino alla fine è perché credi che questo strumento può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi e soddisfare necessità pratiche non c'è più tempo da perdere devi subito attrarre contatti qualificati acquisire clienti nuovi e monetizzare il più possibile da loro numero verde 800 è semplice ed immediato nell'utilizzo non richiede nessuna installazione sulle tue linee fisse o mobili grazie al suo evoluto pannello di controllo puoi personalizzarlo in autonomia inoltre hai anche a disposizione il centralino verde vr e la segreteria telefonica integrata numero verde 800 è stato pensato e progettato per l'imprenditore quindi non richiede conoscenze tecniche per settarlo attivarlo è facilissimo vai su numeroverde 800 punto com scegli dai pacchetti a disposizione il numero più mnemonico per te ci clicchi su e segui la procedura guidata nello spazio dedicato inserisci questo codice promozionale per riservarti dei vantaggi esclusivi se invece vuoi approfondire l'argomento e scoprire di più sul numero verde 800 allora contattaci gratis all'ottocento 090 678 per richiedere una chiamata strategica con un nostro consulente specializzato www.mesmerism.info www.mesmerism.info www.mesmerism.info